Salve a tutti siamo qui con un nuovo video e in questo video continueremo a stare sulla mod della vita reale nello scorso episodio ragazzi vi ho lasciati in una situazione piuttosto tragica Andreas purtroppo è caduto dalla mountain bike mentre stavamo facendo quella bellissima gita in montagna provando le nostre biciclette che abbiamo noleggiato dopo tanta fatica e purtroppo la situazione è diciamo finita male come avete visto è caduto si è fatto male e l'abbiamo portato immediatamente al pronto soccorso come vedete il pronto soccorso più vicino è il centro medico di Sandy Shores e di qua purtroppo non possiamo farci niente perché perché è molto rudimentale vi ho detto che Sandy Shores non mi piace tantissimo come posto ma una cosa che non abbiamo mai considerato è il fatto che a Paleto Bay non c'è un ospedale o almeno quello che credo che non ci sia un ospedale qua c'è un centro medico abbastanza attrezzato ma non abbastanza scusate la doppia parola appunto per tutte le esigenze diciamo ora è andata bene è andata bene ragazzi perché l'unica cosa che è successa è che Andreas ha un braccio rotto si è rotto un braccio ed è una cosa molto fortunata per il volo che ha fatto se andate a rivedervi l'episodio dell'altra volta ha fatto veramente un volo giù dal burrone piuttosto grave ma fortunatamente nonostante si fosse lamentato di vari dolori l'unica cosa vera e propria è il braccio quindi adesso tecnicamente dovrebbero averlo ingessato ora noi entreremo all'interno del di questo centro medico come vedete ci sono due non lo so neanche come due medici due sì diciamo di sì salve ok mi stanno guardando un po' in una maniera strana ma comunque questi probabilmente sono quelli che guidano l'ambulanza al pronto soccorso insomma che vanno in giro non so perché ha un il microfono in mano ma ok e poi come vedete non c'è moltissimo qua non so neanche dove sia l'entrata ma immagino che sia dove ci sono questi due signori qua in ogni caso entriamo vedete c'è la stanza d'emergenza dei visitatori entriamo all'interno qua e vediamo come sta ah comunque Anna è già dentro naturalmente perché l'abbiamo chiamata è venuta anche lei a vedere come sta Andrea se siamo tutti pronti perché oggi torneremo a casa ragazzi ah è stata abbastanza dura vivere in questa baita cioè ci siamo avuti abbiamo avuto un sacco di problemi prima l'orso poi Andreas che si fa male e vabbè comunque entriamo all'interno ok ragazzi eccoci dentro beh come vedete sì non è esattamente come l'ospedale di Los Santos ma che cosa ci aspettiamo quindi salve addirittura triplo monitor che setup signori wow ok forse ho parlato troppo presto mi sa comunque salve sa per caso ok di là di là perfetto guardate che bella sala d'attesa effettivamente non è così male forse gli ho dato poco credito o forse no non lo so eccoli qua ok quindi come vedete qua ci sono i lettini ospedalieri che in realtà sembrano barelle terribile eccolo qua ok c'è Andreas c'è Anna ciao Anna come come sta andando bene dal tuo sorriso sembrerebbe veramente bene vediamo un po' comunque come vedete c'è il medico qua che sta controllando sembra che gli abbiano messo il gesso ok come vedete gli hanno messo un gesso beh sembra piuttosto rudimentale ma sempre un gesso è e sembra stare bene sta giocando al telefono mi sa che sta giocando a fortnite o qualcosa del genere o clash of clash quei giochi lì che gioca lui sul telefono ma sembra abbastanza felice Andreas tutto bene scusa se ti disturbo dalla tua sessione di gioco ma è solo perché mi sto preoccupando tutto bene sono contento alla fine è andata meglio di quello che pensavo non ha avuto nessun problema non ha sbattuto la testa che è stata veramente una fortuna incredibile ha solamente quel braccio come vedete è tutto ingessato ma per il resto non dovrebbero esserci problemi quindi qualche ferita quella ma niente niente di che davvero ce la sei cavata molto molto fortunatamente sei stato veramente un ragazzo fortunato davvero fortunato in ogni caso ragazzi guardate quante pillole qua incredibile spacciano secondo me c'è pure una borsa particolare Anna sono veramente contento so che ce l'hai con me per il fatto che io l'ho portato in giro e lo so mi dispiace tanto non pensavo che succedesse una cosa del genere io volevo solamente fare qualcosa padre figlio di divertente e spero che questo non abbia rovinato la nostra esperienza in montagna vero cioè anche nonostante l'orso nonostante la pericolosità nonostante Andrea si sia fatto male la baita vogliamo continuare ad andarci no o è finita qua perché sarebbe molto bello se ci potessimo continuare ad andare dato che è un bellissimo posto una delle case migliori che abbiamo mai acquistato e insomma in cui siamo mai stati quindi spero che spero che questo non non comporti il fatto che dobbiamo venderla ma in ogni caso adesso rimettiti in sesso Andres appena sei pronto possiamo tornare a casa perché abbiamo lasciato casa nostra allo santo so che voi due siete più la città tu e lei siete più la città appena hai finito usciamo e andiamocene via intanto guardate un po allora questo ospedale effettivamente potrebbe essere un pelino piccolo e soprattutto mal fornito e ci sono queste barelle veramente tremende che sembrano quelle da campo durante la guerra credo ma comunque il resto perché c'è un disco di doro qua non è più vale di idea forse qualche medico è pure un rapper però abbiamo vedete una borsa di pronto soccorso tante medicine sparse in giro e sembra che sia insomma la sala quasi quasi d'attesa è più grande del resto del di tutto il resto dell'ospedale ma in ogni caso qua hanno box vedete che portano si vede ogni giorno ogni settimana da Los Santos con tutte le medicine che servono in caso arrivi qualcuno di veramente malato ma comunque noi ragazzi direi che aspettiamo qua seduti buoni e tranquilli e una volta che hanno fatto ci verranno a chiamare dovrebbe mancare pochissimo comunque ciao Andrea sfatto finito hai fatto sei a posto direi di sì siamo a posto quindi come vedete la situazione si risolta in breve tempo fortunatamente avevo molta più paura nello scorso episodio che sarebbe successo qualcosa di brutto veramente brutto e invece apparentemente no ora Anna lascia il medico che deve occuparsi di quella paziente tu scusi mi scusi mi scusi l'ho fatta cadere mi dispiace mi dispiace tanto mi scusi noi invece famiglia andiamo a ci accompagna l'uscita perfetto torniamo fuori e andiamo a casa andiamo a casa perché è veramente passato tanto tempo ormai abbiamo detto che dovevamo tornare subito super in macchina lilli è a casa quindi dobbiamo assolutamente muoverci e niente dai usciamo paghiamo le cure e usciamo di fuori eccoci qua ragazzi guardate che bella giornata purtroppo non la possiamo passare sulla foresta come piacerebbe a me però dobbiamo accontentare un po' tutti sia loro che vogliono vivere in città e stare un po' più di tempo in città che gli altri comunque andreas mi sembra veramente un gesso alla fine ben fatto ho dato tanto poco credito a questa clinica però mi sembra giusto il braccio è quello giusto e fin qua ci siamo non è montato al contrario e fin qua ci siamo e niente tra poco vedrai che guarirà quel braccio e starei ancora meglio di prima la prossima volta stai un po' più attento però perché quando andiamo in bicicletta non puoi non puoi finire così che magari la prossima volta io non ci sono e la situazione diventa grave a quel punto comunque saliamo in macchina dai che eccola qua l'abbiamo parcheggiata qui ieri cavolo di frettissimo siamo arrivati sparati roba che prendevo una multa purtroppo dove stai andando andreas vieni qua ti consento di stare davanti solamente perché sei tu ah ok vai dietro con la mamma wow 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 mio dio ma che diamine che cacchio sta succedendo raga pazzesco beh bene ok arrivederci clinica grazie mille bene quindi ragazzi torniamo a casa nostra ora sapete che non abitiamo più magari qualcuno di voi non ha ancora visto gli ultimi episodi non abitiamo più vicino al mare dopo che la nostra casa è stata distrutta la casa comunque qualcuno di voi me l'ha chiesto è rimasta naturalmente ancora così ancora distrutta non abbiamo i soldi per ripararla sfortunatamente la città non ci dà un soldo per riparare quella casa anche perché è una casa molto costosa quindi la nostra casa sul mare ragazzi purtroppo per ora rimarrà distrutta e dovremo aspettare di avere i soldi per poterla riparare invece per quanto riguarda il resto abbiamo una nuova casa che è esattamente questa l'avete votata voi non è la mia casa preferita devo ammettere dobbiamo fare inversione che ho sbagliato completamente strada vediamo di mettere la freccia qua vediamo se riusciamo a fare un'inversione così breve sul momento e in ogni caso vi stavo dicendo che appunto attenzione qua vanno lenti come lumache la casa non è un granché è abbastanza spoglia soprattutto dentro mentre fuori ha una piscina in comune con tutto il resto del condominio che apparentemente ci odia probabilmente perché siamo nuovi e non ci conoscono ancora ma forse ci odiranno di più ancora quando ci conoscono non ne ho idea ma secondo me andrà così e quindi ragazzi dobbiamo ancora capire se è lì che vorremmo spendere i nostri giorni rimanenti oppure se effettivamente dobbiamo trovarci un lavoro abbastanza importante probabilmente mettere su un'attività qualcosa del genere che ci permetta di guadagnare abbastanza per poter riparare la nostra vecchia casa cioè vecchia tra virgolette perché era appena stata costruita praticamente non lo so da un anno più o meno meno di un anno probabilmente quindi già vederla distrutta mi si è spezzato il cuore e non solo a me anche a Anna e tutti gli altri della nostra famiglia se riuscissimo a trovare i soldi per poter ricostruire la casa ci servono penso 800.000 dollari qualcosa del genere noi ne abbiamo veramente pochi al momento giusti quelli che ci permettono di andare avanti quindi sì siamo un po' messi in maluccio devo ammettere e dobbiamo lavorare veramente sodo e veramente tanto per arrivare a 800.000 dollari per poter riparare la casa io vi ringrazio davvero per il supporto soprattutto in questi giorni grazie per i like per i commenti per esservi iscritti al canale mi fa molto piacere vi ringrazio e uh che cosa sta succedendo qua niente c'è gente semplicemente che fa le foto a non so cosa i boschi io direi che ragazzi ci vediamo una volta che siamo arrivati è un bel viaggetto lungo fino allo Santos quindi non voglio stare qua a parlare fino alla fine del viaggio ci vediamo una volta a casa ok ci siamo intravedo le prime case eccole qua questa era la vecchia casa di Anna ve la ricordate? quando l'abbiamo conosciuta abitava qua purtroppo l'ha venduta subito dopo appunto per comprare assieme a me la casona sul mare e beh la situazione è quella che è adesso ci siamo ritrovati senza quella quindi tutti i nostri soldi erano andati lì l'uragano e lo tsunami si è portato via tutto però in ogni caso non vogliamo piangerci addosso ci siamo quasi ragazzi eccoci qua a casa in realtà dovrei fare benzina perché veramente sono a secco ma è una cosa che ci penserò la prossima volta che ha malapena adesso arriviamo nel garage quindi eccoci qua perfetto ah è tantissimo che non entriamo nel garage entriamo casa dolce casa Los Santos ragazzi wow che luce questo garage è super super illuminato una roba pazzesca terribile comunque entriamo in casa che ce lo meritiamo davvero venite ragazzi venite che entriamo nell'ascensore forza eccoci qua siete contenti di essere tornati a casa? io sinceramente non tanto soprattutto perché la casa è questa sarei voluto tornare nella mia vera casa comunque ragazzi dato che la situazione è questa ve l'ho rispiegata di nuovo brevemente io avrei un bisogno veramente forte che voi mi aiutaste a decidere che tipo di lavoro fare per poter racimolare 800.000 dollari ovviamente non deve essere subito non è impossibile non esiste un lavoro fisso in cui possiamo guadagnare 800.000 dollari in una volta a meno che non ci impossessiamo di qualche elemento che è particolare o chissà cosa o vinciamo alla lotteria che non è assolutamente un buon piano se avete idea di qualche lavoro magari che paga bene fatemelo sapere nei commenti qua sotto io probabilmente ho delle idee ho delle idee soprattutto per il fatto che adesso abbiamo una casa vicino alla foresta avrei un'idea ma non sono sicuro di quanto paghi è un lavoro che vorrei fare più avanti nella vita ma adesso sinceramente non lo so io continuerò a cercare opportunità magari di business potremmo aprire un'azienda che è una cosa che non abbiamo mai fatto c'è opportunità di business ovunque quindi se avete in mente un'aziendina da aprire qualcosa in cui possiamo buttarci e lanciarci non ne ho idea ragazzi provate voi voi avete una bellissima bellissima creatività quindi aspetto i vostri commenti detto ciò accendiamo la tv che ce lo siamo meritato è stato abbastanza difficile come giornata se volete state qua guardate un paio di un po' la tv che ne dite intanto intanto Andrea stai tranquillo stai a casa rilassati con il braccio non voglio che ti sforzi troppo ovviamente dovrai andare a scuola il braccio è ingessato ma la mano no quindi puoi scrivere non usare questo come scusa a scuola e niente noi ragazzi invece usciamo un secondo e vediamo un attimo di pensare alla situazione sapete cosa faccio adesso? vado in palestra facciamo una cosa andiamo in palestra è tanto che non andiamo in palestra e soprattutto abbiamo un momento per noi qui ci possiamo rilassare un momento da soli usiamolo così andiamo in palestra ci sfoghiamo un po' pensiamo a qualcosa da fare nel futuro perché la famiglia è in mano nostra andiamo qua ed è la migliore in realtà la migliore della città perché è proprio sulla spiaggia è bellissima è all'aperto una cosa incredibile ovviamente si ci dobbiamo andare in macchina purtroppo non abbiamo un abbonamento a una palestra vicina qua ma non ne conosco sinceramente cambiamo sempre zona di residenza quindi beh ok se non erro è qua da qualche parte ah in realtà anche io condivido il fatto che rosso per me verde per me com'è il semaforo qua non ho idea vabbè aspettiamo io anche condivido l'idea che la città sia ottima in cui vivere ci siamo sempre trovati bene in questa città a parte gli ovvi problemi ma per il resto ovviamente non c'è l'aria fresca che c'è in natura come abbiamo lì nella baita però io utilizzerei la baita un po' meno rispetto a quello che l'abbiamo utilizzata negli ultimi giorni perché veramente ci troviamo molto bene qua comunque ragazzi come vedete abbiamo una barra a destra in basso che si chiama stamina che come vedete quando corriamo si abbassa e questa è la nostra fatica quindi vedete che correndo abbassiamo la stamina e poi se quando ci fermiamo riprendiamo fiato e torna di nuovo come era prima eccola qua comunque la palestra ragazzi non è la prima volta che ci vediamo ci siamo venuti altre volte guardate è piena di gente in realtà è piena di gente muscolosissima roba che cavolo mi ok guardate questo come flexa mi flexa davanti lo fa apposta mi guarda e vabbè ok entriamo all'interno della palestra tanto è libera ecco qua benvenuti alla palestra muscle sand andare in palestra migliorerà il tuo fitness puoi fare esercizi direttamente con l'equipaggiamento oppure freestyle ok benissimo più siamo allenati e meglio è ovviamente lo sappiamo beh direi che possiamo iniziare a lavorarci su che ne dite allora vediamo un attimo che cosa possiamo fare ah qua ok questi sembrano pesi almeno c'è l'icona di pesi non so cosa immagino ok proviamoci perfetto wow allora facciamoci un paio di ok non abbiamo fatto decisamente a riscaldamento dovremmo fare un po' di riscaldamento proviamo ad andare più forte che possiamo come vedete c'è la barra anche sopra della potenza che uh abbiamo troppa fatica troppa fatica non ce la facciamo cavolo ok un po' troppa fatica aspettate proviamo questo magari è meglio vediamo se come ci troviamo con i pesi qua proviamo 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 pesantissimo forse dovrei abbassare un po' abbassare un po' cavolo dovrei abbassare un po' la di quanti pesi stiamo facendo uh il peso del bilanciere qua ok oh mio dio forse effettivamente non dovremmo allenarci così ma pazienza vediamo che altro che altro possiamo fare qui qualcosa di semplice vorrei qualcosa di semplice non so se ecco io vorrei quel bilanciere quel coso lì ma sinceramente mi sa che non lo posso usare che ce l'ha lui ovviamente e potrei usare questo ma ce n'è anche un altro di là proviamo di nuovo questo che mi ispirava mi ispirava di più sinceramente rifacciamo questo di nuovo ok alziamoci con le braccia eeeh uno eeeh due eeeh tre eeeh quattro io ci sto ce la sto mettendo tutta ma è difficile è difficile ah ah oh mio dio però ce la stavamo facendo cioè mettiamo più potenza e come vedete la stamina scende meno velocemente il problema è che si sono stanco quindi basta non ci mettiamo più più impegno uh basta 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 vediamo che altro possiamo fare push up sit up ok ah prendiamo possiamo prendere i pesetti quelli piccoli flettere i muscoli direi no facciamoci qualche push up qua dove non diamo fastidio a nessuno ok eccoci qua allora sempre uguale uno due tre quattro cinque uh uh oh aspettate forse è un po' troppo veloce eh cavolo un po' troppo veloce uno due tre quattro cinque cinque alla volta perché non ce la faccio fare di più oh mio dio è difficilissimo ragazzi far aumentare questa barra del potenza eh eh ce la faccio più ce la faccio più mie 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 cioè veramente è è faticoso eh faticosissimo ok basta 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 siamoci basta proviamo a fare un sit up qualcuno cioè addominali praticamente vediamo di farne qualcuno ok e uno questi proprio e tre non sono tanto bravo in questi quattro e c cavolo quattro non ce la faccio non riesco neanche più a alzare cinque sei e e sette basta 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 bene ragazzi io direi che abbiamo fatto tutti i muscoli durissimi facciamo facciamo terminiamo terminiamo qua terminiamo qua terminiamo qua il nostro lavoro ci vediamo a tutti con un prossimo video quindi ragazzi grazie del like grazie del commento e di esservi iscritti al canale e terminiamo qua questo episodio in descrizione c'è il link per il mio libro ufficiale sulla vita reale ragazzi inoltre in descrizione c'è anche il link per seguirmi su instagram in cui sto facendo un giveaway di una bellissima playstation 4 pro basta che mi seguiate e parteciperete automaticamente al giveaway grazie ancora arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti